Ciao a tutti, in questo video cerchiamo di capire come si diagnostica il diabete mellito nel cane. Innanzitutto, come nell'uomo, anche i cani e anche i gatti possono avere il diabete mellito. Questa patologia colpisce anche i nostri animali da compagnia. Partiamo subito dai segni e sintomi per cui un proprietario dovrebbe dire ok, qui c'è qualcosa che non va e quindi portare il proprio animale dal proprio medico veterinario e verificare ovviamente che cos'è che non va. Nel caso del diabete mellito, quello che potreste vedere nel vostro cane è il fatto che il cane beve tanto, urina tanto e mangia tanto. Diciamo che sono i tre segni e sintomi che caratterizzano il diabete mellito. Quindi poliuria, polidipsia e polifagia. Molto spesso nelle fasi iniziali abbiamo un cane che tendenzialmente mangia tanto è in sovrappeso, se non obeso mentre invece nelle fasi finali del diabete potremmo avere un cane che è sempre stato molto in sovrappeso e a un certo punto, nonostante mangi, dimagrisce. Queste sono le caratteristiche per cui dovrebbe accendervi una lampadina a portare il vostro cane chiaramente al medico veterinario. Anche se consiglio sempre visite chiaramente da effettuare anche quando il cane e il gatto stanno bene per valutare se il veterinario nota invece cose che voi ovviamente non notate. Una volta che avete, diciamo, visto nel vostro cane questi tipi di segni e sintomi fondamentalmente alla visita clinica ci possono essere altre caratteristiche che il veterinario durante la visita noterà. Per esempio possono esserci dei problemi cutanei, per esempio nel diabete e a volte possono esserci delle patologie correlate come per esempio la sindrome di Cushing. Un cane potrebbe avere la sindrome di Cushing e poi sviluppare un diabete secondario. Parleremo ovviamente in un video della sindrome di Cushing. La diagnosi come si effettua? Si effettuano due tipi di esami per quanto riguarda il diabete. Il primo è il classico e importante esame delle urine per valutare la presenza di glucosa nelle urine quindi di glicosuria. Questo non è un segno che ti dice ok c'è il diabete anche se nel 90% dei casi è il segno che poi troveremo anche la glicemia alta nel sangue. In alcune patologie renali come nella sindrome di Fanconi potresti trovare comunque glicosuria e non avere la glicemia alta. Nel caso del diabete invece abbiamo la glicosuria ovvero presenza di glucosio nelle urine e presenza anche di glucosio alto nel sangue quindi di un'alta glicemia. La glicemia tendenzialmente deve essere tra gli 80 e i 120. In un diabete ovviamente l'abbiamo sopra i 200, 250, 300 e anche 400. Una volta ovviamente diagnosticato il diabete il vostro medico veterinario imposterà ovviamente la giusta terapia per tenere sotto controllo la glicemia alta che può provocare ovviamente delle problematiche importanti. In un altro video vedremo poi come si effettua il follow up, il controllo del diabete nel vostro cane una volta impostata la terapia. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.